Ciao ragazzi, il periodo della quarantena si prolunga, dobbiamo fare in modo che tutto ciò che abbiamo guadagnato a livello di atletismo non vada perso, non vada sprecato. Quindi l'allenamento che faremo oggi non avrà una particolare enfasi direzionale, non sarà un allenamento lineare, laterale o multidirezionale. Semplicemente avrà come obiettivo quello di far sì che si mantengano le qualità decelerative e accelerative della nostra muscolatura cercando di lavorare su tutti i piani possibili. D'accordo, inizieremo sempre con un warm up dedicato al dynamic stretching, dopodiché passeremo a degli esercizi di reattività, i cosiddetti agili drills, per poi passare a degli esercizi di rinforzo che avranno una componente esplosiva molto elevata. Iniziamo. Dieci ripetizioni in totali, mi raccolgo e mi estendo. Knee hug, ok? Dieci ripetizioni in totale, afferro la caviglia, apro i quadricipite e mi allungo e cambio. Afferro la caviglia e mi allungo e cambio. Scendo, mi raccolgo, prendo, esterno le ginocchia, caviglia, sollevo, leg cradle, ok? Leg cradle, benissimo. Incrocio, la gamba destra dietro e up. Cambio, incrocio, caviglia sinistra dietro e up. Sono sempre dieci ripetizioni in totale, eh? Cinque per lato. Figura quattro, simile alle cradle, ma appoggiamo la caviglia sul ginocchio e andiamo a sederci in basso. Come vedete, la componente unilaterale è già abbastanza sollecitata, d'accordo? Ora faremo sempre un hip hinge, ma posteriore questa volta. Quindi andiamo ad allungare avanti il piede, tocchiamo solo con la punta ed esterniamo le braccia dietro e cambio. Adesso devi aspettare un attimo, d'accordo? Scusate, è venuto caldo anche a me. Bene. Finita questa fase di dynamic stretching, passiamo a degli esercizi più concentrati sulla zona delle anche e sul mantenimento della postura corretta. Semplicemente facciamo delle aperture spingendo con l'interno del piede laterale, a sinistra e a destra. Scusate, spingendo e mantengo, spingendo e mantengo, cercando di avere un'ampiezza sempre maggiore, d'accordo? Rilasso, apro, sempre bassi, passo avanti, passo indietro, passo avanti, passo indietro. Siamo sempre nell'ordine delle dieci ripetizioni, eh? E cambio, restiamo bassi. Molto bene. Ora lavoriamo un po' di più sul piano trasverso, iniziamo posteriormente, sempre restando bassi. Apro e ritorno. E riferno. Apro e ritorno. Apro e ritorno. Sempre sul piano trasverso, incrocio e cambio. Incrocio e cambio. Come vedete, la velocità non è molto alta, d'accordo? L'importante è cercare di mantenere una postura vasta e attivare fortemente i muscoli posturali, proprio per concentrare l'attività sulla zona delle anche. Ora che siamo un po' più riscaldati, passiamo a degli esercizi un po' più dinamici. Iniziamo con il solito, ci dà un pochino le risposte elastiche alla nostra muscolatura, con quelli che sono semplicemente i drop squat. Mi allungo, estendo e scendo in basic stance. Ok? Mi allungo, estendo e scendo in basic stance. 10 ripetizioni. Inseriamo la componente rotazionale. Mi allungo, estendo e ruoto. 90 gradi a sinistra. Mi allungo, estendo e ruoto. 90 gradi a destra. 10 ripetizioni, una serie per ogni esercizio. Inseriamo la componente unilaterale. Mi allungo, estendo e atterro su un piede solo. Mi allungo, estendo e atterro sull'altro. L'avete intuito? Inseriamo la componente rotazionale. Questa volta però con enfasi latero-laterale e con enfasi latero-mediale. Quindi allungo, estendo e ruoto su un piede sinistro, latero-laterale. Atterro di 90 gradi a sinistra. Ora piede destro, latero-laterale. Ok? Ora piede sinistro, latero-mediale. Chiaramente il controllo delle forze di taglio qui sarà maggiore. D'accordo? Faccio rivedere i mediali. Perfetto. La nostra muscolatura sarà di gran lunga più reattiva in questo modo. Abbiamo enfatizzato la fase eccentrica e isometrica di controllo posturale. Inseriamo qualcosa di un po' più reattivo. Iniziamo rimbalzando, mantenendo le mani ai fianchi, solo sulle caviglie. Cerchiamo di raccogliere le punte dei piedi verso di noi. Aggiungiamo il movimento alle ginocchia. Aggiungiamo il movimento alle anche. Molto bene. Quest'ultima fase di transizione, di build-up, diciamo così, da caviglia a ginocchio ad anca, faremo 10 ripetizioni solo caviglia. 10 ripetizioni con l'aggiunta delle ginocchia. 5 di semi-tuck jump, ok? Quelli in cui raccoglievo un pochettino le ginocchia al petto. Ora siamo sicuramente molto caldi, sentite anch'io. Sono affannato. Iniziamo con dei semplicissimi agility drills che riporteranno l'attenzione e l'enfasi a tutta la nostra capacità accelerativa e decelerativa che sicuramente dobbiamo fare in modo di mantenere, d'accordo? D'accelerare prima di riaccelerare. Partiamo da una split position, una stagger position. Scattiamo avanti a 45 gradi e ci fermiamo con il piede sinistro avanti. Da qui, splitto. Vado a 45 gradi. Piede destro. Piede sinistro. Ok? A seconda di quanta distanza avete. Ve lo faccio vedere. Ciao! Ok? Andiamo avanti. Cambiamo, facciamo cambio di direzione a 45 gradi, molto controllato. L'importante è che ci sia split e ripartenza, d'accordo? D'accordo. Con quello che letteralmente si chiama repositioning step. Acceleriamo, deceleriamo. Siamo già in una componente lineare, ma anche, diciamo così, multiplanare, abbastanza accentuata. Questo esercizio avrà una componente rotazionale abbastanza importante. Sceglietevi un target. Potete anche mettere una linea a terra. Io sfrutto le bandanella che c'è qui a pavimento. Tocco, 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 bounce e controllo. E da qui riparto. Uno, due, tre, bounce e controllo. Uno, due, tre, bounce e controllo. E chiaramente in direzione opposta. Uno, due, tre, due, tre. Ok? Questi esercizi ne farete quattro serie del primo. Prendi la pistola, bambina! Per un totale di almeno otto accelerazioni e decelerazioni. Quattro per lato, mi raccomando. Nel secondo facciamo quattro serie, tre pivot per ogni lato. I recuperi, al contrario di quanto sto facendo io, devono essere sempre completi. Non dobbiamo essere affannati, d'accordo? Dobbiamo lavorare sulla qualità muscolare. Ora faremo qualche esercizio pliometrico, un po' più intenso, delle combinazioni. D'accordo? Iniziamo con dei poco jump sul posto. Decelerate split. Decelerate split. Decelerate split. D'accordo? Facciamo otto ripetizioni, alternando gamba destra e gamba sinistra. Quattro serie. Ognuna di queste deve prevedere almeno un minuto e mezzo di recupero. Il secondo esercizio pliometrico. Basic stance. bounce avanti ritorno 45 gradi indietro ok bounce avanti ritorno 45 gradi indietro e rimbalzo questa combo va fatta per ogni serie 4 volte recuperi ancora più ampi 2 minuti ora abbiamo lavorato tantissimo sull'emfatizzazione dello stretch ordening cycle e dello stretch reflex facciamo qualche esercizio un po' più concentrato sulla forza che comunque mantenga un buon livello di reattività utilizziamo una seggiola su cui appoggiamo posteriormente un piede e qui lavoriamo in verticalità ma con 3 o 4 anche diversi punti di atterraggio quindi take off landing 45 take off landing take off landing spropositato take off landing un po' più vicino d'accordo? take off landing take off landing take off landing ricercando anche la stimolazione tra virgolette della nostra capacità di risposta proprio oggettiva anche qui non superiamo le 6 ripetizioni per gamba facciamo tranquillamente 4 serie recuperiamo 2 minuti nel contesto di recupero di 2 minuti possiamo inserire degli esercizi di potenziamento e di enfasi su quella che è la nostra core stability d'accordo? ad esempio chiaramente l'esercizio che mi piace moltissimo è il bear dog con abduzione degli altri 10 ripetizioni per lato sono sufficienti e potete anche contestualizzare all'interno dei 2 minuti di recupero questo allenamento può prevedere nella sua fase finale una parte di conditioning specifica mi sento di dire che potremmo lavorare tranquillamente su accelerazioni e decelerazioni sul lineare accelerazioni e decelerazioni sul laterale è andata di torno per entrambi chiaramente se abbiamo a disposizione 4-5 metri di spazio ci viene meglio utilizzeremo la tecnica del every minute each minute ovvero in un minuto facciamo un numero di ripetizioni richieste che saranno sempre 10 per entrambe il tempo il tempo che ci rimane del minuto facciamo esempio partiamo al minuto zero faccio le mie 10 accelerazioni decelerazioni mi rimangono 45 secondi quello è il mio recupero al minuto 1 riparto esercizio numero uno ma fatto per quattro volte every minute each minute partenza two point stance sprint decelero ritorno cambio piede sprint decelero ritorno cambio piede sprint decelero ritorno grazie ok facciamo quattro serie di questo every minute each minute poi quattro serie di every minute each minute di spinta laterale mi blocco e ritorno mi blocco e ritorno mi blocco e ritorno sempre con la stessa metodica every minute each minute tempo che ci impiegate lo sottraete al minuto ed è quello che vi resta per recuperare per condizionare i vostri metabolismi specifici per una risposta di power endurance come si dice una volta finita la nostra fase centrale il nostro allenamento aspettiamo che il cuore si abbassi un pochettino ci reidratiamo mi raccomando costantemente anche durante l'allenamento facciamo in modo di fare degli esercizi di stretching delicati senza protrarli molto a lungo anche perché con questo allenamento avremo stimolato veramente tanto lo sforzo eccentrico dei nostri muscoli detto questo vi saluto ci vediamo alla prossima be your best grazie a tutti